Ciao a tutti, mi chiamo Stefano, sono un grande appassionato di ciclismo e di classica del Nord. Oggi sono qui per presentarvi Altamarca Round Laundering, il giro delle fiandre previsiane. Dopo aver parlato sui muri e il parè del Belgio, mi sono chiesto se anche qui da noi in Italia ci fosse un posto che regalasse il divertimento, l'euforia e l'adrenalina che ho provato su quelle strade. Quel posto l'ho trovato e sono le fiandre previsiane. Altamarca Round Laundering si svolgerà a Coneviano sabato 15 aprile 2017 alla vigilia di Pasqua. Sarà un evento grezzo, povero e ignorante, proprio come questo video. Avete solo una traccia GPS da seguire e un percorso da completare. La sfida delle fiandre previsiane vi aspetta. La partecipazione sarà completamente gratuita, ma limitata a 100 posti disponibili. Tuttavia, se per voi l'evento sarà gratuito, io avrò comunque delle spese da sostenere, dalla creazione del sito internet alla ricerca dei muri e degli sterrati per la creazione del percorso perfetto, fino a qualche pratica burocratica da sveligare. Per questo motivo chiedo il vostro supporto e il contributo a questa raccolta fondi. Lo farete per rendere sostenibile l'evento e anche per regalarvi a voi e a tanti altri appassionati un'indimenticabile pedalata nel cuore delle fiandre previsiane. Pensaci bene, se ti portassi personalmente alla scoperta delle fiandre previsiane, mi offreresti un abbio alla fine dell'uscita? E allora aiutami a creare la Tamarca von Landen. Sostenici su Enrico. Grazie a tutti.